Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del telegiornale di Nettuno TV. Benvenuto anche a chi ha scelto di seguirci in streaming sul nostro sito www.nettunotv.tv Apriamo con la cronaca. Violenze sessuali sulla michetta della figlia arrestato residente nell'Appennino Reggiano e fermato dai carabinieri. Arresto con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata per un cittadino di mezza età abitante in una cittadina dell'Appennino Reggiano, i carabinieri di Castelnuovo Monti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a seguito degli abusi nei confronti di un'amichetta della figlia, una bimba di nemmeno dieci anni. L'uomo avrebbe approfittato da settembre a novembre dell'anno scorso della distrazione della moglie impegnata in faccende domestiche per entrare nella camera teatro dei giochi della figlia e della amica. Ancora cronaca, parole razziste nei confronti di uno straniero e poi le allusioni a sfondo sessuale nei confronti di quattro colleghe di lavoro. Il caso è al vaglio dei carabinieri e procura ma agli atti ci sarebbe un verbale sottoscritto da quattro agenti di donne di polizia municipale che accusano un graduato del corpo dei vigili urbani di Bologna di essersi abbandonato a epiteti poco edificanti in ufficio. Il caso risalerebbe ad ottobre ma la denuncia è stata formalizzata solo a fine anno. Lo scenario nel quale ha preso forma l'episodio sarebbe un accertamento nei confronti di uno straniero. Le quattro vigilesse stavano redigendo un verbale, un giovane camerumense che trovato senza patente e multato il giorno prima è stato nuovamente sanzionato per non aver portato il documento all'ufficio e riprova dell'esistenza del documento stesso. Il superiore a quel punto si sarebbe alterato poiché secondo quest'ultimo le quattro colleghe dovevano essere impiegate nel servizio di regolazione del traffico. Di lì infine le ingiurie razziste nei confronti del cittadino straniero e a quanto pare pronunciate mentre la gente procedeva alla sanzione, poi allusioni volgari nei confronti delle colleghe riferite all'intrattenimento con il ragazzo. Cambiamo discorso, andiamo a parlare di meteo invece perché per il primo fine settimana del 2018 sarà l'insegna del cielo nuvoloso con qualche precipitazione per lo più sui rilievi e domani vedrà le nuvole coprire uniformemente tutta la provincia. Stesso copione per domenica, le temperature saranno miti in lieve rialzo sulla media del periodo. Cambiamo argomento, adesso andiamo a parlare dell'etifania perché domani sarà la giornata dell'etifania con la celebre sfilata dei Magi nel centro di Bologna. Noi questa sera abbiamo intervistato l'organizzatrice del Corteo Magi, Carla Brighetti, oltretutto nel, diciamo così, l'atelier che hanno creato proprio qui dove siamo noi tra l'altro in Curia. Andiamo a sentire il servizio. Ci troviamo nell'atelier, quello che abbiamo ambiziosamente chiamato atelier, dove abbiamo appunto esposto tutti i costumi che sono disponibili per le persone che domani si presteranno a fare i figuranti nel Corteo dei Magi. Molte persone però hanno dei costumi loro, è una tradizione che ormai si è talmente consolidata per cui le persone comunque vengono con entusiasmo e durante l'anno si costruiscono e si cucciano dei loro vestiti. Pensate che abbiamo un re maggio che sono 50 anni che partecipa a questo corteo, era un bambino quando è partito, però con orgoglio e con puntualità si presenta ogni anno con il suo costume sempre più arricchito e sempre più bello. Quindi domani dalle ore 11 circa più o meno ci ritroveremo tutti qua, le persone cominceranno a vestirsi e poi si recheranno in Montagnola. Alle ore 14 partiremo dalla Montagnola, il corteo si snoderà a lungo via Indipendenza, ci sarà la stella cometa chiaramente, ci saranno gli angioletti, ci saranno i popolani, i rode, i rode, i rode, quindi ci sarà veramente tutto quello che prevede un piccolo presepe. Il corteo si snoderà quindi e chiuderanno il corteo i tre magi a bordo del cam... che aspetterà, non sveliamo l'identità reale di questa creatura, però ci sarà la famiglia che lo aspetterà, ci sarà la cappannuccia con il buo e l'asinello, ci saranno le pecore, ci saranno gli animali, quindi i bambini potranno vedere dal vivo tutti gli animali che saranno ovviamente trattati molto bene, per cui resteremo molto attenti a rispettare questa esposizione. E poi ci sarà il villaggio dei mestieri dove ci saranno tanti artigiani che mostreranno le loro capacità, le loro attività. Parlerà tra l'altro domani anche l'Arcivescovo, giusto? Questa è una manifestazione voluta fortemente dall'Arcivescovo Zuppi, per cui saremo molto contenti di presentargli una piazza gremita con questa natività apposta per lui. Lui sarà molto contento di avere questa partecipazione e ringrazierà sicuramente molto i volontari che si sono messi a disposizione. In più, in piazza avremo anche un coro, lo Spirituise Ensemble, che allieterà la piazza, riempirà la piazza, per far sì che nel momento in cui arriveranno appunto la cometa e i magi potrà essere il massimo dell'emozione, il massimo della gioia, perché questa è una manifestazione che deve dare emozione e gioia. L'avete sentito proprio dalle parole di Carla Brighetti, la giornata di domani sarà allietata anche dal Coro Gospel Spiritual Assemble e al telegiornale di ieri abbiamo avuto ospiti la direttrice Roberta Sacchetti e il Presidente Stefania Betti. Allora andiamo a sentire il servizio. Canteremo del Gospel, Gospel anche abbastanza moderno e anche qualche pezzo tradizionale dello Spiritual, perché noi cantiamo a Bologna da 35 anni, siamo partiti con lo Spiritual, siamo arrivati al Gospel, il Gospel va partecipato, non soltanto ascoltato, quindi speriamo che la piazza canti con noi, si scateni insomma. Intanto faccio vedere anche questo che appunto è un CD con la vostra musica, che voi durante tra l'altro anche i vostri concerti è possibile acquistare, quindi abbiamo anche questo piccolo spazio, se Carla Brighetti me lo consente, appunto per dire che effettivamente c'è questo momento, tanti anni, quindi 35 anni di musica, non sono pochi. Eh non sono pochi e continuiamo finché ce la facciamo. E la Presidente invece Stefania Betti? Cosa vi posso dire? Vi posso dire che una, vi parlo di una delle prossime attività che avremo a Bologna presto, e cioè ad aprile, a metà aprile, il 14 e il 15 aprile, noi ogni anno organizziamo un workshop nazionale, perché partecipano corie singoli da tutta Italia, tenuto da una conduttrice di workshop inglese, quindi di colore, quindi una persona che fa questo di mestiere. Ogni anno ci sono parecchie persone che partecipano a questo workshop, noi lo teniamo a San Lazzaro, presso i Rele Bellari, e quest'anno ripeteremo, per cui chi vuole partecipare ha aperto a tutti e si può assaporare molto, molto, molto bene da vicino che cos'è la musica gospel. E torniamo alla cronaca, e torniamo purtroppo a parlare di violenze sessuali. Per anni ha abusato delle tre figliastre, mettendo incinta una di loro, e nonostante una condanna dello scorso febbraio a sei anni e sei mesi, ha continuato nelle violenze sessuali su una delle donne. La vittima lo ha denunciato e l'uomo, un settantenne residente in provincia di Bologna, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Vessazioni psicologiche e abusi risalivano fino a metà degli anni Ottanta. Cambiamo pagina e torniamo dalla nostra inviata in Terra Santa, Michela Conficconi, la vita dei cristiani in Terra Santa è difficile e carica di discriminazioni. Per questo tante famiglie decidono di partire. Andiamo a sentire l'intervista a padre Pier Battista Pizzabà, l'amministratore del Patriarcato Latino di Gerusalemme. I cristiani in Terra Santa rischiano di non poter rimanere qui. Tanti problemi, diceva, tante famiglie ogni anno decidono di lasciare questa terra. Perché? Lasciano per motivi di opportunità economica, naturalmente, ma anche perché la situazione di vita qui è molto difficile. Alta disoccupazione, mancanze di prospettive, tensioni religiose, politiche, conflitti israelo-palestinese, sono una mistura di problemi che facilitano l'immigrazione. Perché è importante che la presenza dei cristiani qui rimanga? Beh, innanzitutto il cristianesimo è nato qui. E noi siamo parte integrante della identità, del carattere di questo paese. Facciamo parte di questa storia, anche della vita attuale di questo paese. Il cristianesimo poi ha la missione di custodire la testimonianza cristiana che è qui iniziata. Noi dall'Italia, dall'Europa, cosa possiamo fare per favorire i cattolici qui? Beh, innanzitutto pregare per loro e poi venire qui in pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è una forma di sostegno molto bella, molto importante per la vita della Chiesa qui e anche per la pace in Terra Santa. Tante divisioni, qual è il ruolo dei cattolici per mediare tante tensioni tra tanti popoli, culture e religioni diverse? Il nostro ruolo è quello di testimoniare lo stile cristiano. C'è un modo cristiano di stare dentro queste ferite, che è quello del perdono, della non violenza, del dialogo, dell'incontro. Ecco, tutto questo fa parte del nostro carattere cristiano. Quello che è successo con Trump e la decisione unilaterale su Gerusalemme creerà problemi alla comunità cristiana? Beh, crea problemi politici. Nella vita ordinaria non è cambiato nulla. A livello politico naturalmente è stato riaprire una questione che è molto difficile. Rimaniamo in Terra Santa, la visita a due luoghi molto significativi di Gerusalemme, la Chiesa del Padre Nostro dove Gesù ha insegnato agli apostoli la preghiera e la Chiesa sorta invece accanto all'Orto degli Ulivi dove Gesù invece fu arrestato. Andiamo a sentire la guida intervistata ancora da Michela Conficconi. La Chiesa del Padre Nostro è senz'altro situata sulla punta in alto del Monte degli Ulivi dove c'è lì una grotta dove la nostra traduzione porta, dove Gesù ha insegnato agli discepoli la preghiera, il Padre Nostro. Per cui già ancora lì, nei primi secoli, continua ad essere il luogo divinerato dai cristiani. Anche lì Sant'Ena aveva ordinato di fare una chiesa sopra il luogo. La particolarità è che ha scritto il Padre Nostro in tantissime lingue. Quante sono? Ecco, sono centinaia ormai, perché una volta era sul 70. Noi oggi troviamo diverse maioliche, diverse scritte anche in dialetti diversi. Per esempio ci sono in lingua italiana, vecchia perché è molto vecchia, però invece ci sono altri come il Carabrese, il Sardo, il Romagnolo, il Milanese, il Piemontese e altri che ci sono. Queste olivi, senz'altro, sono olivi secolari. Noi parliamo della radice di queste olivi che sono più di un mila anni di vita. Questo è il luogo, senz'altro, dove è stato Gesù. La roccia dell'agonia dove la nostra tradizione porta Gesù ha un tiro di un sasso, ha lasciato i discepoli, dove ha pregato finché sui sudori diventano gocci di sangue. Infatti già nel IV secolo presenta lì sul luogo della roccia delle chiese bizantine che ha condiviso fino al giorno di oggi, che è una di questi più importanti e più belli, fatta oggi da Antonio Barluzzi, viene chiamata anche la Basilica delle Nazioni. Cambiamo nuovamente pagina, saranno commemorate il 6 e 7 gennaio le 17 vittime dello scontro fra due treni che 13 anni fa causò la morte di 17 persone all'altezza della Bolognina di Crevalcore sulla ferrovia Bologna-Verona che il 7 gennaio del 2005 era ancora binario unico. Da allora molti interventi sono stati compiuti sulla linea che è stata interamente raddoppiata. Sabato 6 partirà dallo Stadio Comunale alle 9 del mattino la settima edizione della Maratona di Crevalcore. Domenica 7 gennaio invece una messa in suffragio delle vittime sarà celebrata alle 9.30 dall'Arcivescovo di Bologna, Monsignor Matteo Maria Zuppi, nella chiesa della Beata Vergine dei Poveri in Viale Italia a Crevalcore. In seguito alle 11 è in programma al Parco 7 gennaio 2005, alla Bolognina di Crevalcore, una deposizione di fiori al cippo dedicato alle vittime. Le iniziative hanno il patrocinio anche del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna e della città metropolitana che parteciperà con il gonfalone. Apriamo ora invece la nostra pagina sportiva, vigilia di partita. Quest'oggi il Bologna scende in campo domani alle 12.30 all'Olimpico di Torino contro I Granata, reduci da un esonero del allenatore Mijailovic e con la nuova panchina su cui siederà Walter Mazzarri, ma noi andiamo a sentire la conferenza del mister rosso-blu. Roberto Donadone. Nessun buio, così come non... Credo che la sorpresa sarebbe sorprendersi oggi nel nostro mondo. Quindi, al di là di questo, che chiaramente sono cose che non... non mi interessa neanche di stare a commentare, insomma. Noi dobbiamo comunque lavorare su noi stessi. Poi, che ci sia a Torino un allenatore nuovo, che sia arrivato ieri, quindi che possano cambiare delle cose. Questo tutto può essere. Quindi noi, a maggior ragione, dobbiamo essere concentrati e focalizzati su di noi, su quello che dobbiamo fare, su quello che possiamo fare meglio e dobbiamo fare meglio. Troveremo un avversario che chiaramente vuole dimostrare, vuole fare, però, insomma, il fatto che ci siano stimoli nuovi che ti portano a fare qualcosa in più, a dimostrare qualcosa in più, lascia anche un po', come dire, perplesso. perché, insomma, io credo che uno non debba essere alla ricerca sempre di qualcosa di nuovo esternamente per fare in modo che la sua performance, la sua prestazione sia incrementata in qualche modo, no? Quindi, noi più teniamo le energie e siamo concentrati sugli stessi, meglio sarà per domani. Il punto sulla formazione e i dubbi su questa ce li ha raccontati Giacomo Bianchi nel servizio. L'abbondanza, che quando ce l'hai vorresti non averla perché sei obbligato a fare determinate scelte e quando invece non l'hai la sogni continuamente e sei pronto a smobilitare il mercato per completare una rosa, che sembra sempre povera. Ad oggi il Bologna è completo e sta bene e i guai sono tutti sulle spalle di Roberto Donadoni, alle prese con la necessità di dover fare delle scelte di formazione, che lasceranno in panchina nomi importanti. Mirante sarà sicuramente confermato tra i pali, così come si avrà la certezza di aver riproposta la coppia di centrali formata da Gonzalez e Philippe Lander. Adesso ci dovrebbe optare per Torosidis, che ha pienamente recuperato dopo gli acciacchi di questi giorni e da disposizione, mentre a sinistra, con Masina squalificato, sarà ancora il turno di Breiman-Bayè, preferito all'inesperto Keita, provato in settimana ma difficile da titolare domani. Donadoni dovrebbe confermare il 4-3-3 nonostante l'abbondanza in attacco. Dovesse essere così, Pulgar sarà ancora il mediano designato e ai suoi lati agiranno i rientranti poli e presumibilmente Gottfried Don Sa, che sfiderà d'avversario il vecchio amico Acqua, complice della meravigliosa storia del ganese. In Breviana Palermo, infatti, fu molto più di un amico, fu un sostegno, un fratello maggiore, al punto da regalargli le prime scarpe da calcio e aiutarle economicamente in caso di bisogno, quando ancora il buon Gottfried era senza permesso di soggiorno e viveva la giornata. Tornando alla formazione, però, i dubbi più grandi di mister Donadoni riguardano appunto l'attacco. Sono tornati tutti a disposizione, da Destra a Petkovic, da Palazzo a Verdi, passato per Di Francesco, Falletti e Creici. Verdi è pienamente recuperato ed è intoccabile, nonostante le continue voci di mercato che arrivano da Napoli, così come intoccabile Mattia Destro, fresco di nomina come miglior giocatore del mese di dicembre. Al loro fianco, ancora la conferma di Di Francesco, oppure il ritorno dal primo minuto di Rodrigo Palazzo? Sono questi i problemi del mister, che potrebbe stupire tutti anche con un cambio di modulo, optando per un 4-2-3-1 che vedrebbe Palazzo al spalle di Destro, con Di Francesco e Verdi, sugli esterni. Ipotesi di remota o realtà? Chissà che il nuovo anno non porti i cambiamenti. E sono tutti recuperati, anche Torosidis e Verdi sono rientrati totalmente in gruppo. Maietta invece non è stato convocato per la partita di domani a causa di una sindrome influenzale. E un'altra non convocazione, è arrivata per Taider, che probabilmente, però siccome sta bene a livello fisico, è uno dei giocatori che probabilmente andranno via in questa sessione di mercato invernale. Cambiamo argomento, andiamo a parlare di basket. Fools è stato reintegrato in gruppo, l'abbiamo detto, questa settimana. È rientrato anche Pini in gruppo, che quindi sarà disponibile per il coach. Mentre invece Cinciarini sarà fuori, almeno fino a martedì, e fino a un nuovo controllo. Era la nostra ultima notizia, grazie di averci seguito. Grazie alla regia di Francesco De Carlo, a voi buon proseguimento di serata.